durante il viaggio ho letto un libro ti ho aspettato per dieci minuti ascolto la musica mentre guido faccio sport durante la giornata non ho mangiato per sei ore mentre parlavo mi sono distratto luca è andato via per un mese siamo stati qui per due anni durante la cena guardo un film mentre lavoro bevo molti caffè durante la gita ho fatto le foto mentre spiego rimango seduto ho viaggiato per molti anni ho telefonato durante la pausa mentre leggevi io stavo cucinando ho capito tutto durante la lezione nessuna cosa dura per sempre durante un temporale c'è vento il mio cane abbaglia mentre gioca ti ho visto mentre facevi la spesa claudia è sparita durante la festa luigi ha voluto mangiare una mela sofia è dovuta uscire con claudia stamattina mi sono svegliato alle sei oggi giovanni ha 19 anni sofia è molto bella vestita così Luca è potuto venire in macchina gli amici hanno voluto alzarsi tardi i bambini non sono potuti uscire i loro genitori si sono dovuti alzare le mamme hanno preso gli ombrelli sofia non è potuta venire in auto le amiche di lisa sono dovute partire Luca e Gianni hanno fatto 16 anni questa donna è stata molto bella Luca ha voluto ascoltare la musica il volante il volante la ruota la ruota la targa la targa il faro la portiera la portiera il motore il motore lo specchio lo specchio lo specchio il sedile il sedile la cintura la cintura la benzina la benzina la benzina la batteria la batteria i pedali i pedali i pedali cosa metti sul tavolo ci metto un vaso mangi spesso qui ci mangio ogni sabato come stai a napoli ci vivo molto bene cosa ne pensi di tutto questo non ci vedo niente di male hai sentito la storia di Luca sì ma non ci credo devi uscire con Claudia no non ci devo uscire ci sono i biscotti sì sono in cucina c'è già la pioggia no non ancora quanti studenti ci sono quasi 500 possiamo mangiare tutto no loro ci vedono dove andate tutti Lisa ci ha chiamato cosa dicono i tuoi amici ci danno un passaggio cosa vi hanno fatto ci hanno fatto un favore perché loro sono qui ci hanno offerto il loro aiuto Luca è di nuovo a casa? sì e ci ha portato dei gatti come state in Italia? ci divertiamo molto quando vi svegliate ci svegliamo alle 8 quando andate al cinema ci andiamo domani ce la fate a finire? possiamo riuscirci ne avete discusso? sì ma non riusciamo a capirci siete entrati al museo? no no non possiamo entrarci ho chiesto di restare con voi mi prometti di essere bravo? l'ho convinto a fare la spesa è stanco del troppo nuotare è bello andare in vacanza cerco di capire il problema ho visto volare l'aereo vedo di aiutare come posso sento abbagliare il tuo cane sento di dover andare via ci hanno guardati partire le regole vietano di uscire sono andato a nuotare oggi devo iniziare a cucinare d'ora in poi non ti do più la mia auto ci vediamo domani alla stessa ora ho incontrato tua cugina poco fa non vado quasi mai a mangiare fuori un anno fa ero in vacanza a Napoli fra poco usciamo per andare al mare per il momento non so cosa dirvi sono certo che prima o poi ce la farai hai cambiato idea all'imperviso i diamanti durano per sempre oggi andiamo a sciare in montagna mi sono svegliato presto stamattina se oggi è giovedì ieri era mercoledì tra una settimana andiamo in ferie sono stato in biblioteca di recente prima mangiamo e poi usciamo telefono subito all'agenzia di viaggi stai ancora lavorando in ufficio? domani andiamo tutti al cinema non prendo spesso l'autobus noi siamo già arrivati in stazione io apro la finestra io ho aperto la finestra tu bevi l'espresso tu hai bevuto l'espresso Marco chiede qualcosa Marco ha chiesto qualcosa quando chiudono? quando hanno chiuso? a chi dai la rivista? a chi hai dato la rivista? voi non decidete? voi non avete deciso? anche lui dice la verità anche lui ha detto la verità loro sono in Italia loro sono stati in Italia che tempo fa? che tempo ha fatto? che cosa leggi? che cosa hai letto? dove metti quel libro? dove hai messo quel libro? chi perde spesso? chi ha perso spesso? cosa prendete voi? cosa avete preso voi? quale scegli Maria? quale hai scelto Maria? a che ora scendono? a che ora sono scesi? a chi scrivete? a chi avete scritto? io sto in casa io sono stato in casa vedo i miei amici ho visto i miei amici a che ora vengono? a che ora sono venuti? dopo cena bevo il caffè dopo cena ho bevuto il caffè porto io i biscotti ho portato io i biscotti molte persone visitano Venezia Venezia è visitata da molte persone l'artista dipinge un quadro il quadro è dipinto dall'artista Claudia mangia una mela una mela è mangiata da Claudia il cane ha svegliato i vicini i vicini sono stati svegliati dal cane Paolo ha scritto una lettera una lettera è stata scritta da Paolo la nebbia nasconde gli animali gli animali sono nascosti dalla nebbia lui impara molte lingue tante lingue sono imparate da lui due amici bevono molta acqua molta acqua è bevuta da due amici Luca compra una macchina una macchina è comprata da Luca la mamma cucina il pranzo il pranzo è cucinato dalla mamma i siciliani producono le arance le arance sono prodotte dai siciliani voi guardate un film un film è guardato da voi Luigi ha rotto il telecomando il telecomando è stato rotto da Luigi la pioggia bagna le strade le strade sono bagnate dalla pioggia loro leggono tanti libri tanti libri sono letti da loro l'autista guida l'autobus l'autobus è guidato dall'autista vedremo l'eclissi a mezzogiorno l'eclissi sarà vista a mezzogiorno ho aperto la finestra la finestra è stata aperta da me il venditore chiude il negozio il negozio è chiuso dal venditore devi cucire il vestito il vestito deve essere cucito da te il sole scalda l'aria l'aria è scaldata dal sole quando vieni a casa mia ci vengo sabato sera dopo cena se ci sei hai comprato le cartoline da spedire ai nostri amici? purtroppo ce n'era solo una ne compreremo altre tre dal tabaccaio hai spedito gli inviti per la festa? sì, ne ho già spediti più di 20 hai sentito quello che ha detto Claudia? no, qui c'è tanto rumore ripetilo tu quando vi siete conosciuti tu e Giorgio ci siamo visti oggi per la prima volta Laura, ma non dovevate andare all'estero quest'estate? dovevamo farlo, ma poi non ci siamo riusciti Luca, fino a quando sei rimasto alla festa? me ne sono andato poco dopo le 10 siete già andati al cinema? no, non ci siamo ancora andati sai se Marco ha comprato i biglietti per l'aereo? no, non ne ha avuto il tempo ci penserò io più tardi avete trovato tutte le copie dei libri? no, ne abbiamo comprate solo 8 vi hanno già raccontato come sono andate le cose? sì, ci hanno accennato qualcosa ma noi dobbiamo ancora parlare più tardi quanti chili di mele avete colto? ne abbiamo colti 5 chili sette settimo dodici dodicesimo diciassette diciassettesimo diciotto diciottesimo diciannove diciannovesimo ventiquattro ventiquattresimo ventiquattresimo trentuno trentunesimo quartatresimo quarantatresimo quarantatresimo cinquantotto cinquantottesimo cinquantottesimo trecento trecentesimo duemiladodici duemiladodicesimo nove nono